Ciao a tutti Benvenuti Questo è il mio primo video ASMR So che l'inquadratura non è delle migliori E che ci sarà qualche rumore di qualche macchina Ovviamente i più forti li taglierò Ma volevo farvi sentire un po' di suoni di natura C'è anche del vento che non aiuta per niente Le macchine non sono neanche un motivo troppo grande di disturbo Invece lo hai il vento se si invia Cosa che fa molto spesso ultimamente Ovviamente questo è il mio giardino Se sentite il rumore di anatre Becore Cani Cavalli Il mio vicino ha molti animali Semplicemente io non ne ho neanche uno Vedete che sfiga Questo albero ha dei frutti Qui vengono chiamati susini Questo li fa rossi Non verdi Non verdi Come di solito diciamo sono più conosciuti Questi rossi Sono un po' aspri quando li si mangiano Non credo siano ancora pronti Ne vedo solo alcuno Non tanti Però sono molto buoni Ne sto cercando qualcuno in giro Ne vedo solo uno ma è molto lontano E poi credo che non siano ancora maturi Quindi lascia stare Innanzitutto comunque ditemi se vorreste altri video di questo genere Ripeto so che l'inquadratura non è delle migliori Sapiate che siete pesi a un albero Un ramo di un albero Quindi È già tanto Non ho ancora ben capito dove posizionare il telefono Perché ho il cavalletto solo per il microfono O Per il telefono Ma Non l'ho ancora per entrambi Anche perché questo è molto piccolo tra l'altro Quindi In ogni caso Non è troppo alto Non riesco a Ad appoggiarlo al terreno Se no dovrei girocchiarmi E anche Forse Disteggarmi a terra Per riuscire a parlare al microfono Se c'è una cosa che a me non piace Nella Nella smr Sono questi suoni Non lo so Non mi sono mai piaciuti particolarmente Sappiate che ovviamente Se si sente troppo il vento Taglio queste parti Una cosa che mi piace molto del tasca È il tapping su dis Adesso Scusatemi per le unghie Lo smalto è venuto via Solitamente faccio i semi permanente Ma Sto cercando di farle riposare un po' E quindi Ho utilizzato solo lo smalto L'altra cosa che mi piace molto Oltre ovviamente al tapping qua È qua Ovviamente ve li sto facendo diciamo Molto così ecco Giusto per farvi sentire Perché iniziate voi voi Cosa che mi piace di più Sto cercando di salvaguardare il microfono So che esistono Quegli oggetti Che ora non ricordo il nome Per Far sì che Non si sente il rumore del vento nel microfono Ma non ho ancora comprato Anzi nuovo il microfono Quindi Con calma Vi faccio un po' sentire il rumore delle foglie Quindi naturalmente non mi sentirete adesso Già non mi vedrete Questo è il rumore del ramo Sono rosse le foglie Ma comunque Non sono verdi Ma credo si riesca a vedere un po' Qua no? I rami questi qua più bassi Sono convinta che se mi vedessi qualcuno in questo momento mi prenderebbe per pazza Un'altra cosa che mi piace molto del tasca è il tapping sulle unghie Che ripeto non riesco a fare in questo momento perché vorrei appoggiarlo da quella che parte il tasca ma quindi... Allora Allora Dobbiamo far passare la tasca dentro le foglie. Proviamo da questa parte. Voglio farvi sentire anche il rumore dei passi perché ora lo posesse verso le mie scarpe. Devo dire che non pensavo solo che è stato più rilassante ma effettivamente lo è. Wow, io effettivamente ho fatto un periodo nel quale ascoltavo alcuni video ASMR dove camminavano con le scarpe, con diversi tipi di scarpe. Ed era rilassante. Però non mi ricordavo più, diciamo, di questo bel rumore. Anche se sarebbero i miei che fanno dei rumori, sentiamo. Niente. Volevo trovarne qualcuno, era facile da inseguire, però si fa un po' fatica su questo albero. Non fanno granché di rumore. Ma lì si spaventano con un inc diplomatico. Eccoli. Ci trovano un sacco di suoni nella natura, sentiamo il rumore dell'erba. Alla prossima. Alla prossima. Vi piacerebbe avere qualche suono di qualche animale in più. Però ci accontentiamo per ora tra attori. Non intendevo questi tipi di suoni. Ok, credo che per oggi sia tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, è il primo video. Volevo chiedervi se vi interesserebbe magari se facessi un video ASMR finché gioco The Sims. A me piacerebbe molto, l'ho cercato anche in questi ultimi giorni. Soprattutto perché magari alle volte ho voglia di guardare persone che costruiscono case su The Sims. Ho appena notato che c'era la Sims sul Roma. Vogliamo intervistarla? Non dico niente in particolare. Ho notato che alle volte ho voglia di guardare persone che costruiscono case su The Sims o cose così. Però senza le voci, diciamo così, alte dei giocatori, ecco. Quindi ho cercato qualche ASMR su The Sims. Quindi niente, fatemi sapere, sto cercando uno screen recorder per il computer e soprattutto per il video game. Quindi fatemi sapere se questa cosa vi potrebbe interessare. Visto che comunque il gioco fino a tardi è... Mi sembra una buona idea cosa è questo rumore.